Con un fatto di attualità, perché poco fa le agenzie hanno battuto questa notizia di un blitz dei carabinieri, dati dei contagi falsificati per non far scattare la zona rossa. Parliamo naturalmente della Sicilia. Tre arresti, avviso di garanzia per l'assessore Razza. L'inchiesta condotta dalla Procura dei Carabinieri di Trapani con il NAS di Balermo si basa su intercettazioni che sono andate avanti fra novembre e marzo di quest'anno e il GIP dice che Musumeci è stato ingannato. Però l'assessore Ruggero Razza ha ricevuto un avviso di garanzia e un invito a comparire per essere interrogato. Tutti sono accusati di vari episodi di falso materiale ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico. Sono 40 gli episodi contestati e l'ultimo risale al 19 marzo per quello che appunto è stato definito questa falsificazione dei dati per non far scattare la zona rossa. Che ci dice? Dico che intanto anch'io ho letto l'agenzia pochi minuti fa. Inutile dire che in questi casi si resta sorpresi. Noi le zone rosse le abbiamo anticipate, non le abbiamo nascoste. E questa è storia. E però bisogna avere rispetto per la magistratura. Così come io ho fiducia nell'assessore Razza che se dovesse risultare responsabile naturalmente da solo adotterebbe le decisioni conseguenziali. Però in questo momento bisogna soltanto essere sereni, essere fiduciosi nell'operato della magistratura. Sono convinto che la verità emergerà prestissimo. Quello che abbiamo fatto in un anno, in non oltre un anno, in Sicilia è stato improntato alla massima trasparenza. Abbiamo sempre seguito la linea del rigore e della fermezza. Fino all'ultima settimana, due settimane fa, abbiamo chiesto noi a Roma la istituzione della zona rossa perché l'unica nostra preoccupazione non era la graduatoria delle regioni efficienti ma era il numero dei morti, l'unico nostro obiettivo al quale guardavamo. Quindi facciamo andare avanti le indagini e del resto gli avvisi di garanzia servono proprio a questo, a fare chiarezza. Dopodiché lasciamo lavorare chi deve lavorare e alla fine ne trarremo le conclusioni. Senta, come giudica l'incontro che c'è stato ieri per l'appunto tra governo e regioni? Beh, poco so.